buonasera ci siamo ciao a tutti oggi entriamo sul mio server in cerca di aerobrine allora eccomi qua ebbene ciao a tutti vediamo un po dove andare andiamo tutto andiamo in cerca di aerobrine a 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 sta facendo a notte a non la 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 Grazie a tutti. Qua qualcuno va in piazza pulita. Grazie a tutti. L'ho abbandonato un po' qua dentro perché mi mancano i villici. Ci dovrei mettere. Allora dove può scendere? Ho fatto un passaggio. Da quest'erba non si vede niente. No, dovrebbe essere questo. Nemmeno un mob. E silenzio. No. 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 questo qui è il posto dove ho trovato la croce proprio i mob sono pochissimi c'è il posto dove ho trovato il posto Grazie. Un modo per scendere ci dovrebbe essere. Ecco qui. Qua siamo arrivati al fondo. Questo l'ho trovato già così. Oh, no, una strega. Ma che cazzo? Questo qui una patata. Oh. Oh. No se. Sì. Oh. 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 Che risata che c'è. Oh. 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 Fortuna, eh, per questo. Qua c'è della luce. E infatti, l'avevo detto io, che questi piloni qua è tutto lava. E infatti, l'avevo detto io. 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 Ehm. L'avevo detto io. Allora. Mi sta laggando l'antichia. Eccolo. Perchè ti puoi far male? Cosa mi ha dato? L'arco me l'ha dato? No. Sempre tirati questi scheletri. Vabbè, dobbiamo salire. Questa è la croce. Qui c'era l'acqua, infatti ho messo le spugne per assorbirla un po'. Questa è la croce. Questa è la croce. Questa è la croce. Questa è un po' di incontro. ti picchio quel piccone, ti picchio ma guarda un po' questi clipper arrivano silenziose silenziose come i guigliacchi per colpire le spalle si oppure i chante le negozazioni che lasciate Qingquero Grazie a tutti. 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 Ha... Cazzo, mi ha fatto spaventare. Porca troia... Un'accidente mi ha fatto prendere. Ma che non c'è... Niente... Proteggi... Proteggi... Vediamo di bene... 303... 303... Qui si sono... tutti messi qua... E poi... E poi... E poi... E... 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 17 solo uno per 17 proviamo non rubare se potenziare vieni qua cosa lo sai ha 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 in sesso rotto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho notato che i mob si fermano così qua e guardano da questa parte. Specialmente gli zombre. Chissà cosa vedo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Piccolissimo video, diciamo piccolissimo. Spero che vi sia piaciuto il tempo. Ciao, ciao.